Il primo contatto fa sempre effetto. Soprattutto la prima variera delle progetti esplodono, che si vedono tutti fumi davanti, che se entra dentro si vede passare da tutte le parti dei traccianti. Sono attimi, si vivono in maniera intensa, ma sono di pochi secondi. Si vede reciprocamente i progetti che esplodevano, quindi sparano lui e quelli sparano lui. Perché a fine corsa facevano una bomboletta di fumo. Si vede tutte le traccianti e passano da tutte le parti. Perché ogni quattro, cinque, dieci progetti c'è quello tracciante. Si vede, era una questione di fortuna, se un progetti non ti prendeva. A me mi ha preso una volta sulla gamba e mi ha lasciato la traccia. E' anche fortuna che aveva, perché ce n'è uno perforante ogni dieci, l'altro c'è l'esplosivo. A me mi prese quella perforante. E' così, questo zoom, mi sta alle gambe. Ah, perforante, c'è l'esplosiva, salta la gamba. E' un attore, non di fortuna di culo si dice. E mi dice l'abilità. L'abilità si fa. Se le osse vanno bene si impara, come tutti. I bombardieri sparavano, sparavano le corrette. Prima ci si battevano la scorta. Bisognava sopra a fare veglia e poi si andava a fare un te e gli altri. e che cercano di difenderli. Sì, sono cinque o sei morti e venti. Erano tutti uguali a morti e venti. Si buttava lì, si metteva in questa borgia di fuoco. Noi si sparavano, non sparavano. Chi aveva più fortuna si soffraffava all'altro. La guerra è la cosa più stupida del mondo, riporto questo. Non lo dite visto, eh. Quindi scontriamo diverse fattugne e mi sparavano il proiettile. Mi passò la carlinga e incendiò l'aerofrano. Atterrai vicino a pareggio mi fai. Atterrai, mi lanciai. E quando mi lanciai mi credo che avevo paura che fossi strappato i paraduti. L'afra, un'aprire l'olio, un'aprire presto, un'aprire. Aspetta un'eternità. Ma il mio figlio era sempre presto. Cominciò a spaccarsi. Perché la velocità che c'è iniziale è troppo forte di fronte alla resistenza della seta. 6-7 mila metri. E' di comodo, era comodo. E' brutto anche basta. E poi un'altra cosa. I paraduti erano sotto il sedere. Lanciandosi, si frullava. E non riuscivo a toccare i paraduti. E dicevo. C'è o non c'è? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Io ho fatto caprioli, fare qui, con un miliardo di metri e poi l'ho aperto. Ma troppo presto. Mi si strappò un migliore. Sentivo. PIC! Spaccava. Quando forzava l'aumentatura. PIC! E cavolo. E c'era tantosi quando arrivai. Ci pensavamo a questi giorni. Quelle donne di Vareggio le offressero i paraduti. Tutto questo appadio. Se le avevo portato a casa era un ricordo. Ma allora? Chi ci pensa? La verità? E' vero sì. Non c'entra né l'abilità né i soffereni. E' una questione di culo. E' vero sì. 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 E' vero sì.